guardate cosa succede ragazzi vediamo sta facendo la nostra arumi ricordatevi che questo jo si chiama mortal kombat 1 è questo il caos sovrano forza sairax datti da fare sconfiggi questi malvagi ninja del link way salva arumi sairax ma che fai con arumi mi saluto iscrivetevi al canale mettete un mi piace